È la prima volta che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prende parte alla giornata al ricordo del fratello Pier Santi, assassinato a colpi di pistola il 6 gennaio del 1980 in un agguato mentre andava a messa. La Sala Ercole dell'Assemblea regionale siciliana ha fatto da sfondo alla cerimonia istituzionale. Sono le stesse mura, testimoni dell'appassionato, intelligente, coraggioso e impegno profuso nel corso di tre legislature da Pier Santi e Mattarella, da autorevole protagonista. Presenti oltre le autorità anche i figli di Pier Santi, Bernardo e Maria, e i loro figli e i nipoti. Un'altra parte della commemorazione si è svolta all'ingresso del Giardino Inglese di Palermo, che è stato intitolato all'ex Presidente della Regione. Da oggi si chiamerà Parco Pier Santi Mattarella, Giardino all'Inglese. Per l'omicidio è stata accusata la cupola di Cosa Nostra, ma gli esecutori materiali non sono mai stati individuati.